Ben trovati gentili telespettatori, nuovo appuntamento con l'informazione. Donne e uomini, la salute è anche un fatto di genere, si ammalano in modo diverso, rispondono alle terapie in modo diverso. All'ordine dei medici domani è in programma un incontro formativo per specialisti e medici di famiglia. Uomini e donne hanno un differente rischio di contrarre molte malattie e anche una diversa risposta a molte terapie. Da pochi anni la medicina di genere, scienza medica che attraversa tutte le discipline mediche, prende in considerazione queste diversità per curare ogni individuo in modo appropriato. È infatti scientificamente ed eticamente scorretto trasferire sulla donna i dati ottenuti sull'uomo. Si tratta di un vero e proprio errore metodologico che ancora purtroppo persiste nella ricerca scientifica, come spiega uno spot realizzato appositamente su questo tema. Quello che è perfetto per un uomo potrebbe non essere adatto per una donna. La differenza tra uomini e donne va presa in considerazione, in particolare quando si tratta di salute. La medicina di genere è attenta a questa differenza per assicurare a tutti e a tutte la terapia più efficace ed appropriata. Per saperne di più www.medicinagenere.org. Sarà questo argomento al centro dell'incontro che si svolgerà domani all'Ordine dei Medici di Arezzo, dove si confronteranno medici specialisti e medici di famiglia. La salute di genere, spiega Lucia Lenzi, referente salute e medicina di genere per Arezzo della Asla Toscana Sud-Est, è ormai un'esigenza del servizio sanitario e occorre pensare alla riorganizzazione dei servizi affinché tengano conto delle differenze di genere, non solo sotto l'aspetto anatomo-fisiologico, ma anche delle differenze biologico-funzionali, psicologiche, sociali e culturali per una maggiore appropriatezza e personalizzazione della cura. La Asla Toscana Sud-Est già da alcuni anni ha recepito le linee di indirizzo di OMS, Ministero della Salute e Regione Toscana e sta predisponendo corsi di formazione per i medici e per corsi di cura differenziati. Differenze rilevanti sono ormai note in cardiologia, farmacologia, immunologia, oncologia e nelle malattie respiratorie croniche. Ad esempio, le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nella donna rispetto all'uomo. Il 55% delle persone colpite da ictus sono donne, mentre l'Alzheimer colpisce il 17,2% delle donne e il 9,1% degli uomini. Ilaria Abidini e Jacopo Melio sono stati nominati dal Corecom Comunicatori Toscana 2018. Il premio a questi due giovani rappresenta nelle intenzioni del Corecom un riconoscimento alla forza e al carattere con cui questi ragazzi si sono mostrati per quello che sono oltre la disabilità, con i loro desideri, le loro paure e la loro ironia. In linea con le motivazioni del riconoscimento dello scorso anno, conferito ad Elena Favilli, coautrice di Storie della Buonanotte per Bambini e Ribelli, anche per il 2018 il Corecom premia il desiderio e il diritto alla libertà di essere se stessi. La cerimonia si tiene domani alle 11 a Firenze nella Sala delle Feste a Palazzo Bastogi. Il 15 dicembre riapre a Rapolano la mostra dei presepi con opere di alto livello artistico che riprendono le strade e i principali scorci del paese. Il 15 di dicembre viene riaperta la mostra di presepi con anche delle realtà che verranno dal mondo delle scuole, un'occasione importante per la parrocchia in questo tempo che ci avvicina al Natale per rimettere al centro Gesù. Sì, è vero, ma non soltanto delle scuole ma anche del nostro catechismo. I ragazzi del catechismo insieme con i catechisti hanno realizzato dei presepi nuovi fatti su misura dei ragazzi dalla scuola e dalla quarta fino alla terza media. E così qui in questa stanza vengono portati e presentati agli altri. È una gioia, anzi io volevo fare un appello a tutti gli ascoltatori, tutti quelli che sono a vedere sempre la televisione di Tele San Domenico, di venire qui da noi a visitare, a fare questa esperienza di un paese allestito dei presepi di questi segni del cristianesimo che già sono quasi vent'anni che l'associazione di Giancarlo Battali qui a Rapolano si occupa di questa bellissima idea. Quello di Rapolano è un museo permanente dedicato al presepe. Ogni anno viene aggiunto con delle opere d'arte, possiamo dire, di livello anche molto elevato. Su cosa avete puntato quest'anno? Quali saranno le novità che sarà possibile visitare a partire dal 15 di dicembre? Sì, noi tutti gli anni in nostro museo cerchiamo di fare dei nuovi allestimenti, a parte quelli fissi che sono di nostra proprietà. Quest'anno ci sono dei importanti pezzi artistici che vengono da collezionisti e da anche scultori che si occupano di arte presepiale. Ma la cosa più importante che ci preme sottolineare è quest'anno che abbiamo voluto mettere nel nostro museo opere fatte da noi, cioè tutte le natività che facevano parte dei presepi precedenti. È una realtà singolare questa di Rapolano, non è facile trovare delle esposizioni così ricche, di qualità anche così elevata. Qual è il filo conduttore di tutte le composizioni? Su cosa voi cercate di concentrarvi e di dare maggior valore? Dunque, per quanto riguarda l'attività presepiale, cioè dei presepi che facciamo noi, è che dal 94, quindi questo è il 25esimo presepi e tutti i presepi hanno un tema. Abbiamo incominciato ricostruendo tutte le parti del nostro paese, tutte le porte principali, le piazze e quindi siamo dovuti uscire anche all'esterno, abbiamo fatto anche, per dire, le nostre terme e abbiamo riprodotto praticamente e tutti gli anni facciamo una riproduzione nel nostro territorio come era una volta. Quest'anno, senza dire niente di particolare, ci sarà una sorpresa del nostro territorio che va anche più là del nostro territorio. Di più non possiamo aggiungere per lasciare la sorpresa a visitatori. I volontari della sezione a retina dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla hanno raccolto quasi 17 mila euro con la campagna fondi La Mela di Aism. Metà andranno alla ricerca scientifica e metà alle varie attività che vengono svolte in aiuto e sostegno delle persone con Sclerosi Multipla, in particolare al progetto pedagogico clinico Essere nella Sclerosi Multipla tra sogni e paure, che si è concluso con la rappresentazione teatrale implacabilmente al Teatro Mecenate di Arezzo e al Corso di Storia dell'Arte che si svolgerà da gennaio a giugno del prossimo anno nella sede di Piazza Andromeda per i soci e volontari della sezione di Arezzo. Natale al Museo d'Arte Medievale e Moderna, il calendario di tutte le iniziative in programma tra dicembre e gennaio. La magia e le suggestioni del Natale animeranno il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna di Arezzo. Con l'inaugurazione della mostra, un gioiello per le nozze di Estera a Suero, l'esposizione che raccoglie i lavori degli allievi del Master in Storia, Design e Marketing del gioiello dell'Università di Siena, hanno infatti preso il via, lo scorso sabato, le iniziative culturali organizzate per il periodo natalizio dal museo situato in via Salorentino. Il programma degli eventi comprenderà diversi appuntamenti tra mostre, concerti e attività pensate per i più piccoli. Questa mostra si inserisce negli eventi, nelle attività che stiamo portando avanti ormai da più di due anni. È la mostra di Natale, è una piccola ma comunque raffinata mostra che terminerà l'Epifania. Gli eventi che abbiamo tenuto in questi due anni sono stati concerti, presentazioni di libri, film. Attualmente abbiamo avuto in questa settimana, in collaborazione con il FAI e con le scuole di Arezzo, gli apprendisti ciceroni, che sono degli studenti, dei licei, delle scuole secondarie e superiori, che hanno fatto da ciceroni nelle varie sale, nelle varie opere più significative. Cicerone a chi? A alle famiglie o ai bambini più piccoli delle scuole di Arezzo e quindi per tutta la settimana è stato, devo dire, un grosso successo perché è un motivo fondamentale di formazione all'arte che va fatta appunto quando già da piccoli. Mi preme sottolineare invece che nell'Immacolata, quindi sabato prossimo, alle 17.30 invece avremo un'altra iniziativa. Il coro Tour d'On di Arezzo farà un percorso legato alla Madonna della Misericordia e in genere alla Vergine, per cui sono state individuate dei dipinti, dei quali si traccerà brevemente un po' la storia e verranno eseguiti dei canti medievali, insomma di diversi secoli, sui vari dipinti, secondo un percorso appunto museale del museo. Un'altra invece evento è quella di partecipare alla città di Natale attraverso questa caccia al tesoro che si pratica in tutti i musei statali di Arezzo, quindi si scarica un'app, c'è un indominello e rispondere a questo indominello significa andare in uno o un altro di questi musei e poi con il cellulare fotografare il marker e poi gli organizzatori hanno previsto dei premi. Quindi questo per valorizzare il patrimonio a questo museo che devo dire sta certamente molto più frequentato sia come turisti ed è sta rinascendo. è arrivato il momento del nostro focus che oggi è dedicato all'incontro con Claudio Turina missionario laico della carità che ha lavorato con madre Teresa di Calcutta organizzato dal centro missionario della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Grazie per l'attenzione e buona visione a tutti voi. Alcuni giorni fa invitato dall'ufficio missionario della diocesi Claudio Turina ha parlato della sua esperienza al servizio dell'altro in vari luoghi di missione. L'incontro partecipato si è svolto nel Salone degli Archi della Basilica di San Francesco e Turina che nel 2007 ha fondato l'associazione Gocce d'Amore Universale si è soffermato a lungo sull'attuale impegno dell'associazione ovvero la presenza in Ghana ad Accra. In questo luogo vi è la più famosa discarica al mondo di rifiuti tecnologici al cui centro che è uno slam vivono circa 100.000 persone senza acquedotto, fognature, luce elettrica, scuole ed assistenza sanitaria. Claudio Turina una persona tutto tondo a servizio della carità e della missione. Diciamo che ho imparato questo tipo di vita dalla Santa Madre Teresa cominciando con lei ancora nel 92 e dunque poi in giro per il mondo i vari progetti realizzati sempre ricordando la Santa. La carità perché? Perché ci sono i poveri altrimenti non servirebbe nemmeno la carità, non avrebbe senso. Speriamo in un mondo migliore in futuro, futuro remoto, che non ci sia più bisogno della carità, che siano i santi della misericordia, della bontà. Allora cominciamo dall'inizio Claudio, come nasce questo incontro verso la carità? Penso che per ciascuno sia diverso. Nel mio caso particolare ho avuto la fortuna, come tanti, ma io parlo per me, di avere soddisfatto le mie aspettative, le mie desideri molto presto nella vita. E qualcuno mai e qualcuno tardi. Io molto presto e mi sono trovato senza più desideri e quando uno non ha più alcun desiderio cerca una via d'uscita, l'ultima spiaggia. Stranamente l'ultima spiaggia si rivela Dio, questo è incredibile, ma è l'ultima spiaggia. E Madre Teresa è stata una persona, uno strumento, tra virgolette, naturalmente, per incontrare ancora di più Dio? Beh, lei rappresentava Dio, la sua vita era Dio, perché lei era perfettamente aderente, l'igia, diciamo, al Vangelo, all'insegnamento di Gesù. Nulla era al di fuori per lei. Tutta la sua vita era il Vangelo. Come era Madre Teresa nella vita quotidiana? Sempre così, non cambiava. Era molto simpatica, anche divertente, ma molto rigida, molto severa. pretendeva veramente di essere molto corretti, perché per lei tutto era molto importante, tutto, qualsiasi cosa. Questa è una grande lezione di vita? Sì, molto grande. Non esisteva per lei questo mi piace, quello non mi piace, questo è bello, questo è brutto. C'era il buono e il cattivo, basta. Il tutto che si comprende. A un certo punto lei ha deciso di fondare un'associazione. Sì, perché a un certo punto, dopo tanti anni di vagabondaggi nella carità in tutto il mondo di qua di là, a Venezia i miei amici dicevano, ma sempre per l'India, sempre per il Sud America, sempre per l'Africa, facciamo per i nostri veneziani. Ho detto, bene, facciamo qualcosa, questo era il 96, e cosa facciamo per i veneziani? Beh, abbiamo tanti ragazzi, tanti tossici, tanti sieropositivi, tanti malati di AIDS, allora era piena la città, adesso è cambiato. E così ho fondato l'associazione per poter aiutare prima loro. Ma è cambiato un po' tutto, con le terapie, con le nuove droghe, eccetera, che non si bucano più, meno male, quindi l'AIDS non si trasmette più in quel modo, ma in altri modi. E a quel punto con l'associazione ho cominciato a dedicarmi ad altri progetti. E ha cominciato a guardare anche al continente nero, all'Africa. Prima dell'Africa, il Sud America, il Peru, eccetera, il Peru, era stato molto tempo là, realizzato dei progetti molto interessanti. Il Peru è una realtà pazzesca, perché abbiamo le grandi montagne a 5.000, e poi andiamo nella foresta, dove la gente muore di tutto, ma di malattie banali, come l'Aishmaniosi umana, che è la lebra bianca, che la si prende da una zanzara. Incredibile. Vende 250 euro per guarire, altrimenti si muore. È un termine assolutamente paradossale questo. È una realtà dove noi abbiamo questo progetto all'interno della discarica di rifiuti tecnologici, una delle più grandi al mondo. Siamo nel Ghana. Ghana, Acra. Parliamo nel cuore della capitale, Acra. Non parlo della periferia, chissà dove, ma il cuore a mezz'ora a piedi dai ministeri, dalle grandi banche, dal Presidente della Repubblica. Dal suo punto di vista, con una lunga esperienza alle spalle, come è possibile ancora, in maniera così netta, così evidente, questa discrepanza tra l'assoluta ricchezza e l'assoluta povertà, soprattutto in certi paesi? Ma io lo spiegherei in un modo molto semplice. il grande egoismo e la grande indifferenza dell'altro. Quando uno pensa solo a se stesso ed è indifferente a quello che gli sta intorno, è facile, molto facile. Come educarci alla carità? E forse non bisogna desiderare tanto altro. Ecco, io ho potuto farlo non desiderando più niente.